Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma ragazzi Buongiorno, benvenuti in questo vlog inizia da qua, in mezzo alla strada, cioè Damiano E niente, adesso stiamo andando alla stazione Ciao Cinque centesimi di resto Porta Eccolo là, il porta nazionale Ciao, Monopoli pure, benvenuti, sei contento? Molto contento Perfetto Mancano solo due componenti Abbiamo quasi un qualche podcast in timan compieto, quasi C'erai dopo con lui? Eh sì Il nostro amico che purtroppo ha perso il treno Boh, vediamo se ci riesce a raggiungere Ma si può comprare i biglietti per dopo? Devi fare in tempo, dove sei tu adesso? Sei la stazione adesso E vabbè niente, compra un altro biglietto Siamo arrivati a Parma, adesso dobbiamo vedere se usare o il bus o andare a piedi da Cappatosta Comunque alla fine abbiamo optato per andare a piedi E il nostro amico forse ci ha raggiunto il prossimo treno Ma non c'è nessuno Mono Mono si stranisce perché faccio i vlog Ma non ha capito dove arriverò io Ragazzi siamo direttamente da Parma a Milano in un attimo C'è il giardino verticale Bandiera LGBT sul Parma Ok, comunque adesso ordino Però su camera non mi dicano nulla Se no nuovo video cacciati da Cappatosta C'è l'avocado d'ossi Ma sono là È vero, ma siamo scemo Adesso dobbiamo scegliere cosa prendere Tu cosa consiglieresti? Che ne so, io devo ancora leggere Diciamo che i protagonisti del video saremmo noi tre adattini Da Milano e Porta che siamo in questo tavolo Secondo voi quanto abbiamo speso siamo? Due, due, sei Sette Quanto abbiamo speso in cesta? Io dico cinque Quanto dici Emma totale? Quaranta Sui quaranta Io cinque Tu? Su verso cinque ranta Siete pronti? Signore abbiamo speso cinquantasette euro e sessanta Ragazzi Mo aspettiamo che ci arrivi la roba Ma ti prego no dai No, tutto Tutto ma non questo Mi stai filmando a me Crepitoso ragazzi è arrivata per Porta Per chi non può si chiaro lui è Porta perché è il suo cognome Cioè lo prendiamo Mamma mia, mamma mia che roba ragazzi Full form vero A te cos'è che ho ordinato? American Toast Vabbè io ti lascio un video a te perché adesso mi chiameranno American Toast Ottimo Se questo qual è anche il trezzo? Chicken Toast Vai tra la volta lo attaggio È strepitoso in forza Buono Quanto dai? Dove? Il grande intenitore Ma se deve volare un voto è di dove Nove Signori è arrivato anche il mio panino L'avocado toast Buono L'avocado si scioglie Ma è buonissimo Ho preso lo strepitoso da Luca Che buono Sono cremosi dentro Signori abbiamo recuperato un pezzo di toast con la porchetta Proviamo anche questo Vediamo che voto dargli Comunque avocado toast 10 Ce ne facciamo 9 e mezzo perché è strepitoso Però come lo strepitoso magari no perché era un po' più leggero La porchetta è buona Di qualità 10 Tra l'altro siamo venuti qua perché abbiamo visto Puoi mangiare l'exmoorri Exmoorri Anche lui l'ha visto Esattamente Io seguo l'exmoorri Mi saluta exmoorri Esatto Se vede questo video comunque sappia che la sponsorizzazione ha funzionato Come è andata? Bene bene Quattro buono Come è andata Luca? Facciamo il bis Sì anch'io No non prendo il toast Io prendo le pozzine di cappettine Tiè finito male Mi dai un pezzo Ha perso il treno Signori potremmo provare anche i dolci Potremmo provare qualche dolce Signori semplici ma efficaci Pane croccante con Nutella Ma E' quella alla fine la differenza Che fa prendere il pane con Nutella da cappatoste Buono Voto 9 perché è banale però Ma il pane con Nutella è una garanzia Un pane con Nutella No ma garanzia La recensione del cappatoste perché noi facciamo recensioni complete da cappatoste Allora E' gustosa E' veramente buona No dai la posso provare con la salsa E' più Marty's Tinder Che un chicchetto Sembra una roba strana Ed obbligo la recensione del bagno Ragazzi ma c'è un mondo di qua Recensione del bagno in cappatoste Siamo in un locale con la fotocamera Top Un già un punto a favore per le cose inchinabili Bagno C'è poco da dire È un bagno È un bagno Dammi Dove vai? C'è un mondo qua Ci sono le chiavi Oddio Oddio Scappiamo Mani lavate direi che possiamo andare Davvero? Bene raga Adesso facciamo un giro No No non siamo di qui Un infelizzo Ah voi sei qui Sei seriamente registrato Tutto per i conti Non contentiamo Ragazzi sono leggermente confusi da queste ragazze Oggi è carnevale Leggermente confusi Non andate negli Apple Store travestiti da unicornio Ve li raccomando Nostro scopo oggi sarà trovare cose strane qua a Parma In teoria oggi ci sono delle manifestazioni Ma non è sicuro che le troviamo Cosa fai Mono? Sperate che ci fossero fumetti Sono deluso Sì lui è un fumettista come vedete dal podcast Cos'è sta roba? Ma è Hulk Hulk sotto steroidi Ma fatti male Capitano America è una roba bruttissima Che è sto qui? Che cazzo? Sono andati di Harry Potter Funko Bob gigante È letteralmente del 2016 Allora commenta questa bellissima statua C'è un culo enorme Gigante È pazzesco vero? È tre volte la mia testa col culo Da un voto da 1 a 10 11 Best in town Ok dov'è che andiamo adesso? Go to Fidenza Vabbè ci vediamo in stazione Video epico Mono Percorre tutta Parma A camminare lì indietro Ragazzi Il Batman Content baby Il tutto Vietto preso Ma è una cosa normale L'acqua Ma la bottiglietta L'acqua Ma che stai sceglie? Dove sono messo una verso il treno Per un pelo Ma che cavolo fai a comprare la bottiglietta E non voglio neanche tu parla D'anni di salutare Ciao Ma la foglia Fidenza Gravietevi per supportare il canale di Matteo Nadei E il suo content Ok Mettete like Ciao Ragazzi questo è l'idea più epico che poteva mai capitarvi su tutta YouTube Italia Cacca di cavallo in mezzo al centro di Parma Ciao a Lionti